Musica Tanta uagna per tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Martelli13 e oggi sono qui con una nuova mappa multiplayer del pacchetto Apocalypse Abbiamo già visto insieme le mappe Takeoff e Frost ovviamente in descrizione trovate i vari link per poterle riguardare se ve le siete perse e oggi invece vi porto la mappa Dig Allora la mappa Dig è una mappa un po' particolare poiché si ambienta in un sito archeologico una mappa abbastanza aperta dove non vi sono molti spazi chiusi, quasi nessuno poiché non ci sono case, non ci sono stanze o altre cose del genere ma è una mappa molto aperta caratterizzata da corridoi e viusole è una mappa anche a mia parere abbastanza piccola se così vogliamo metterla non è molto grande, infatti se avete visto all'inizio gameplay appena sono spawnato, appena è partita il match andando subito sulla sinistra mi sono trovato subito dei nemici una cosa che mi ha fatto rimanere un pochino così scioccato perché non me l'aspettavo passando invece alle classi consigliate vi posso dire che sia l'SMG che il fucile d'assalto in questa mappa fanno il loro sporco lavoro voglio precisare una cosa, io non vi consiglio mai classi come cecchini o mitragioni leggeri perché sono classi che io non uso magari quelle potrebbero essere anche buone ma sono sempre a livello personale quindi io vi do una mia impressione personale è un mio consiglio da un mio punto di vista quindi magari voi vi potete trovare bene con i mitragioni a giocare su una mappa come questa magari io no, quello vi voglio far capire però tornando al discorso, in questa mappa possiamo usare sia SMG che fucile d'assalto perché come detto sono tutte viuzzole, sono tutti corridoi, ci sono alcuni spazi aperti e quindi magari in quei pochi spazi aperti un R può essere più avvantaggiato di un SMG però magari in uno spazio, in una via, in un corridoio un SMG potrebbe devastare completamente un R poi ovviamente dipende sempre dalla skill personale, dalla connessione e da tanti altri fattori che ormai sapete, le serie di uccisioni che vi posso consigliare sono molte cioè alla fine vanno bene tutti in questa mappa poiché essendo aperta una serie di uccisioni come uno sciame può essere migliore di una come i cani poiché in questa mappa non vi sono dei tetti, non vi sono delle stanze, non vi sono delle case in sé per sé quindi usando una serie come lo sciame farete una strage perché la mappa è apertissima cioè alla fine oltre ai corridoi e qualche tettoio non c'è nulla, è tutta aperta quindi una serie di uccisioni come lo sciame, come un drone, come uno stealth, come un fulmine, un elstorm quel che volete può fare una strage ma può farla anche una serie come i cani ovviamente quindi anche per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto in tal caso mettete un bel mi piace, un bel commento fatemi sapere se questa mappa dig è la vostra preferita io con questo ho concluso, ci vediamo un prossimo video e tanta magna per tutti ragazzi grazie